Salute il signore! Ciao, ciao! Ciao Carlo! Ciao! Carlo! Quanti anni hai Carlo? Lo dici? Uno e medio! E' il berettino rosso! Hai anche il berettino rosso? Sì, bello Vino, di bello, di bello, di bello, di bello, di bello, chi è? Berettino giallo, è giallo, Berettino giallo, è giallo, io niente Berettino, niente sai non ne ho, solo Carlo ha Berettino rosso E lì, lì c'è nero, lì c'è nero Se c'è 600 millivolt adesso, sbagliato, mi sembra che sia il marrone e il bianco, ma non una cosa della memoria Sbagliato, allora bisogna collegare il marrone Infatti vedi io ho messo proprio un voletamento qua dentro Poi mettiamo un nastro intorno al mammut Non c'è arrivato questo filo finora Non c'è, non c'è, non c'è Sì, sì Ah, è stagno, sì, rifatte, rifatte deputy Come 4 5 e 4 5 e 4 Per quindi avere già Io direi di preparare laurgicale Sia questo che questo è la stessa storia. Allora dobbiamo staccarlo. Se vuoi questo filtra, cambiamo di volto. No, non lo so. Dicevo, qui l'avete trovato voi. Io so, le so, però dopo... Quanto sembra rimessi così. Cazza, milleria. La fissiamo. Se c'è un pezzo di mambozza con i due figli, faccio il lavoro così. Spera ci sia. Spera ci sia. Ci sono queste qui. In questo cordino Catelli, io devo andare a attaccarmi con... Cioè, non ho... Andare con una dita. ... 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